Con che cosa l'hai fatto Davide? Risotto di giulia Voi cosa avete fatto? Verde immagino Gialli leoni cosa avete fatto voi? Guarda Asparagi e gamberetta Benissimo giallo logicamente giallo Come era la vostra pasta? Buonissima Con che cosa era fatta? Pesto di nucola e pomodorini Faraone la vostra? Con che cosa era fatta? Il grittoglio era buono e sicuro Fatta come la pasta Si accompagna benissimo Ogni contrada ha fatto un pentolone di pasta Tutti quanti hanno portato dolci, patatine, biscotti, panini Di tutto Di tutto e di più Al vino che è torriso Insieme Ecco leежду Un bravo per Marco Un bravo per Marco Un bravo per castro Ehi 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.